A poco più di un mese dall'inizio del ritiro dei rifiuti incombranti sparsi per Modica, l'amministrazione tira le somme sull'attività svolta fornendo un primo bilancio. Nelle varie discariche a cielo aperto sono stati recuperati 706 tra materassi e divani e 748 pneumatici fuori uso per un peso di 8.900 kg, 21.520 kg invece il peso complessivo tra divani e materassi. Nel corso del servizio sono stati ritirati ben 10.500 kg tra frigoriferi, televisori e altri elettrodomestici. Raccolto anche il legno abbandonato per un peso complessivo di 8.060 kg. E infine sono stati trovati anche 1.160 kg di metalli e 20 kg di batterie esauste. Il servizio di raccolta avviene ogni 15 giorni. Adesso spetterà ai cittadini collaborare con l'amministrazione che fa appello al senso civico dei Modicani. A questo proposito l'assessore all'ambiente Giovanni Spadaro ha lanciato un appello fornendo anche un numero di telefono per il ritiro degli ingombranti a domicilio che avverrà in maniera gratuita. La Modica non merita tutto questo, non merita avere dei rifiuti vicino ai cassonetti e quindi io invito i cittadini ad avvalersi del numero che è totalmente gratuito. Quindi loro possono chiamare direttamente all'ufficio comunale. ripeto il numero è 759704, gli diranno il giorno in cui lasciare fuori il rifiuto e loro il Comune automaticamente quel giorno stesso lo prenderà e lo porterà direttamente alle piattaforme autorizzate. Quindi invito i cittadini a non lasciare, a non abbandonare i propri rifiuti vicino al cassonetto.